e servirà per l'acquisto di una nuova macchina per la TAC all'ospedale di Settimo Torinese l'assegno donato nei giorni scorsi frutto della raccolta benefica avvenuta presso l'ipermercato Panorama sentiamo le interviste questa iniziativa va nell'ottica di aumentare la potenzialità di questo ospedale l'ospedale che peraltro sta già funzionando molto molto bene devo dare atto e ringraziare soprattutto gli operatori che vi stanno lavorando intensamente noi vogliamo qualcosa di più da questo ospedale vogliamo che sviluppi delle nuove specialità e diciamo che questa iniziativa di Panorama insieme a quella del Comune va in questa ottica e il risultato che vediamo in queste giornate significa che c'è da parte della popolazione un interesse particolarmente intenso verso questa operazione questi fondi permetteranno l'avvio dell'acquisto e dell'implementazione presso l'ospedale e del macchinario per gli esami TAC che si affiancherà all'attuale impianto per la radiografia e per l'ocografia quindi completerà tutto il reparto analisi dell'ospedale permettendo uno svolgimento più importante, più vicino ai degenti e al territorio ci diamo anche l'obiettivo di avere un rapporto di buon vicinato di essere degli attori della comunità in cui viviamo e di fare delle iniziative che migliorano l'ambiente in cui viviamo in particolare sapevamo che l'ospedale di Settimo lo sappiamo perché le nostre persone lo vivono e lo utilizzano è una cosa molto sentita dalla collettività e abbiamo deciso di mettere in piedi un'iniziativa che ci porti ad evolvere dei fondi a favore di questo ospedale